Bella a tutti ragazzi, qua Argasmic e sono qui con un nuovo episodio del Top 5 Silver Players Dunque, ci sono... in realtà dovevo pubblicare un altro tipo di video però non mi andava al team e team, non mi faceva giocare quindi per cui ho dovuto per forza fare questo anche con un po' di velocità comunque sia, parliamo dei 5 giocatori di oggi ci sono in realtà tantissimi giocatori argento che vorrei mettere di fatti ci sarà sicuramente un secondo episodio di questo tipo perché davvero sono troppi i giocatori forti che mi sono piaciuti gli argento io li considero i giocatori più divertenti quantomeno da utilizzare in questo gioco per cui sono i miei preferiti Dunque, andiamo con il quinto giocatore nella nostra Top 5 e parliamo di Gabriel Agbon Lahore in realtà è un giocatore formidabile lui e forse non merita la quinta posizione ma qualcosa di più però i giocatori che sono davanti a lui hanno fatto ancora meglio a me rispetto a lui quindi non è un suo demerito il fatto di stare in quinta posizione ma soltanto un merito degli altri giocatori che sono davanti a lui comunque non potete dire di aver provato Agbon Lahore se non l'avete mai provato in FIFA 12 anche se era oro ma era la cosa, il giocatore secondo me più buggato di tutta la storia di FIFA in ogni caso parliamo di Agbon Lahore di FIFA 14 si presenta come un giocatore veramente incredibile con una velocità strepitosa 90 con 88 di accelerazione 92 di scatto un tiro veramente molto molto forte con 76 di potenza tiro poi anche un 73 di long shot ma soprattutto ha un bel 74 di finalizzazione che è molto buono per un argento un buon controllo palla un'ottima forza fisica di 82 e poi ha 4 stelle per le debole una cosa importante secondo me da notare il 77 di aggressività che come ho ripetuto nello scorso episodio con un giocatore bronzo lui ruba sempre il pallone e quindi è molto molto più pericoloso poi vabbè comunque il suo prezzo adesso è abbastanza alto ma comunque per tutto FIFA è stato abbastanza alto come prezzo del giocatore però comunque si è li vale tutti perché è veramente forte sia in attacco a 2 che in attacco a 1 il giocatore in quarta posizione è secondo me Mike Oswell Mike Oswell colpo di scena perché è fortissimo semplicemente fortissimo lui è un AT ma può essere utilizzato sia come AT appunto in falso 9 che come AT per esempio nel 4-4-1-1 mi sono trovato molto bene può essere utilizzato anche come attaccante senza problemi e soprattutto come COC come COC forse è il massimo perché mi sono trovato alla grande ha un'ottima velocità con il 77 dimostra anche qualcosa di più secondo me ha un buon tiro con un buon long shot una buona potenza tiro anche una buona finalizzazione se per quello ha un ottimo passaggio soprattutto anche nel passaggio a corto appunto fate i filtranti bassi con lui veramente fa assist a manetta poi ha 4 stelle abilità 4 stelle piede debole è un ottimo dribbling con 84 nelle statistiche con 81 di controllo palla davvero un giocatore fortissimo peccato che si è trasferito se non sbaglio all'Atletico Mineiro e quindi l'anno prossimo non lo vedremo più in FIFA Ultimate Team purtroppo comunque si è un giocatore che merita tantissimo la quarta posizione perché è fortissimo andiamo con il giocatore in terza posizione e stiamo parlando di Eddie Johnson Eddie Johnson quello bestiale diciamo lui ha due versioni quella dei Sounders e quella dei Toronto se non sbaglio no DC United la versione dei Seattle Sounders costa tantissimo perché non è più nei pacchetti e faceva doppia intesa con Dempsey o con l'esterno di sinistra non mi ricordo costa tantissimo ma comunque è un giocatore formidabile perché ha una grande velocità con 87 di accelerazione 87 di agilità 84 di scatto ha un buon tiro cioè lui 64 sulla carta ma sembra qualcosa di più a dire la verità perché segna da qualsiasi posizione grazie anche ai suoi 76 di potenza tiro passaggio vabbè incommentabile dribbling sulla carta 73 non è altissimissimo è un buon dribbling poi lui comunque ha 4 stelle abilità quindi ben venga ma soprattutto ha 90 di forza fisica questo significa che è una montagna non gli togliete mai palla e poi nei colpi di testa è formidabile lui ha un 83 con 82 di salto 77 di precisione nei colpi di testa e 90 di forza fisica praticamente le prende sempre giocatore che merita la top 3 è un giocatore fortissimo incommentabile secondo me perché comunque si è fortissimo a tutti almeno per quanto mi riguarda è stato fortissimo quindi medaglia di bronzo per lui ci sta assolutamente andiamo sempre sul podio in seconda posizione troviamo Mlapa giocatore secondo me è fortissimo ma che ha anche in Bundesliga secondo me ci sono delle valide alternative come Akpala perché è anche lui molto forte se non l'avete provato fatelo Mlapa è fortissimo perché ha una buona finalizzazione di 71 comunque sia un buon tiro con 77 di potenza un buon controllo palla perché non è facile trovare un attaccante che abbia 74 di controllo palla quindi punto a favore per Mlapa parliamo della velocità 84 sulla carta è una buona velocità non tanto di accelerazione quanto di scatto dove ha 87 ha 3 stelle abilità 3 stelle piededevole comunque sia buono tiro vabbè ne abbiamo già parlato passaggio 64 comunque è un buon passaggio per essere un attaccante è forte anche di testa dove in realtà non è non ha un grande salto ha 74 vabbè e soprattutto non è non ha una grande precisione nei colpi di testa dove ha 63 scusate non c'ho c'ho il raspino però ha 85 di forza fisica cioè le prende tutte ma anche un'altezza di 193 centimetri quindi è veramente un albero questo giocatore un albero con le gambe quindi si muove fortissimo ragazzi fortissimo provatelo vale veramente la pena se non l'avete fatto ma l'ultimo giocatore in prima posizione troviamo secondo me l'attaccante argento più forte che io abbia provato quest'anno cioè Seolki Yeon il coreano che gioca appunto in Korean League Korean League che ogni anno ci regala questi giocatori buggatissimi e fortissimi Yeon è un giocatore veramente bestiale bestiale perché è velocissimo con 87 di accelerazione ha una buona agilità comunque è un bello alto quindi avere un'agilità come lui aiuta moltissimo ha una forza fisica assurda 86 ha una potenza tiro incredibile con 80 tutti i tiri che fate sono tranquillamente gol 82 di cross questo vuol dire che può essere secondo me utilizzato anche come COC nel 4-2-2-2 non l'ho mai provato però secondo me è da provare perché con 82 di cross è veramente forte e poi soprattutto ha 5 stelle piede debole e quindi ogni tiro che fate come ho detto prima ma sia di destro che di sinistro è gol gol senza dubbio ha un work rate poi perfetto per un attaccante buggato cioè alto di attacco e basso di difesa quindi è solo un giocatore offensivo provatelo perché anche se non l'avete mai fatto appunto provatelo perché ne vale assolutamente la pena il giocatore secondo me più forte di questo gioco argento comunque ragazzi anche per oggi l'episodio è finito io spero che provate questi giocatori se non li avete provati ma penso di sì scrivetemi appunto nei commenti quali sono i vostri migliori giocatori argento e ovviamente io farò uscire un secondo episodio perché ne ho altri da mostrarvi perché madonna c'ho il catarro cazzo appunto scrivete lasciate un bel mi piace a 300 mi piace uscirà il nuovo video se appunto questo video raggiunge 300 mi piace uscirà la top 5 dei giocatori oro e ovviamente iscrivetevi al canale facebook, twitter, instagram tutti i link li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga